Betfair chiude i battenti? È la fine del mercato exchange in Italia? Bene, tutte queste domande mi sono state poste nelle ultime 24 ore a seguito della comunicazione di Betfair della sospensione dell'attività del betting exchange a partire dal 18 gennaio. Questo varrà per alcuni utenti, in ogni caso siamo di fronte a un cambio di scenario importante e ti spiegherò tutto dopo la sigla. Andiamo! Ok, video improvvisato, proprio perché notizia davvero delle ultime ore, notizia di ieri pomeriggio, oggi è sabato mattina, quindi davvero siamo proprio sul ritmo della notizia a livello quasi delle breaking news della BBC, ok? Scherzi a parte, andiamo a fondo nella questione perché ieri pomeriggio che stavo per andare in diretta poi sul canale mi sono arrivate molte segnalazioni di utenti che mi hanno scritto Betfair chiude, è la fine del betting exchange. Cosa pensi di questa situazione? Onestamente a me non è arrivata nessuna comunicazione. Quindi pensavo, inizialmente, il primo pensiero è stato quello di occhio alle fake per email che magari era qualche simpaticone che si spacciava per Betfair, un po' come fanno con Amazon, con Paypal che mandano quelle email fake per cliccare sui link e ciucciarci via i soldi, ok? Però poi ho cominciato a chiedere, ho chiesto informazioni, ho cominciato a girare per il web, mi sono confrontato con altri membri dello staff di Liberi del Lavoro per capire un attimino la situazione come la stavano vedendo. Ma nel complesso, comunque, non mi sembrava, nonostante tutto, nulla di allarmante. Sono andato a fondo tra ieri notte, quindi stamattina, pomeriggio, insomma tra prima e dopo la diretta, fino al momento in cui ho deciso di registrare questo video e mi sono schiarito le idee, ok? Cominciamo quindi a condividere tutto l'accaduto, perché noi in realtà su questo canale ne avevamo già parlato di questo discorso della tassa, nuova tassa del decreto rilancio applicata anche al betting exchange. Trovi qui tutti i video, ok? Va bene. A questo punto ti voglio portare su Asso Poker, che tra i vari articoli che si trovano ad oggi su questa questione, che credo sia quello che racconta più nel dettaglio, l'accaduto. Quindi prenderò spunto per fare la nostra analisi e dopo, verso la fine quindi del video, ti dirò anche le mie soluzioni, i piani B che già abbiamo in corso di adattamento, quindi già siamo pronti per attuarli e come secondo me si potrebbe evolvere la situazione. Cominciamo quindi con la parte di analisi. Titolone. Betting exchange, sospesi, scommettitori e trader high stakes in Italia per la nuova tassa, l'autogol di Stato con il crollo del gettito. La tassa sui volumi del salvasport applicata al betting exchange ha iniziato a sortire effetti negativi. Nella giornata di oggi, che chiaramente è ieri, come potete vedere dalla data qui sotto, Betfair si è trovata costretta a comunicare la sospensione degli account da lunedì, parliamo del 15 gennaio, lunedì è il 18 gennaio, quindi davvero anche con poco preavviso, dei traders ai roller italiani. Il provvedimento è temporaneo e non riguarda scommesse ed altri giochi, poker e casino. Già questa prima parte, insomma, è interessante perché va a identificare, quindi va a rispondere subito a una prima domanda. Betfair chiude? No, assolutamente no. Sospende l'attività di alcuni traders e, insomma, clienti, per meglio dire così, altospendenti, quindi che movimentano tanto, che fanno tanto volume di gioco. Questo perché? Perché la tassazione va applicata soprattutto al volume, no soprattutto esclusivamente, al volume di giocato. E quindi che succede? Se ho dei clienti che movimentano tanto, poi saranno costretti a pagare tanto. Perché, come ho spiegato in questo video, la tassa, secondo la circolare dell'AMS, quindi la circolare esecutiva dell'AMS, va poi riportata sugli utenti, nei modi e nei termini che hanno spiegato. E tra l'altro la circolare ve l'ho messa qui, giusto per riprenderla. In realtà nel video che vi ho linkato nella scheda si vede meglio, perché o perlomeno perché è dedicato proprio a tutta la circolare, quindi l'abbiamo letta tutta. Comunque la circolare, giusto per reminder, è questa. Io vi metto tutti i link qui in descrizione, sia di questo articolo che stiamo leggendo, sia della circolare, sia della sentenza del TAR, che tra un attimo prenderemo, andiamo chiaramente sempre per gradi. Ultima ora, purtroppo la nuova tassa del fondo SalvaSport, con l'applicazione dello 0,5% sulla raccolta e non sul profit, sta creando grossi problemi ai concessionari italiani del betting exchange, come vi abbiamo più volte spiegato. È un prelevo che, per come è strutturato, è tecnicamente incompatibile con lo scambio scommesse. Betfair e Betflag sono chiamati a pagare più tasse rispetto a quanto incassano di commissioni, di fatto andando in passivo, e anche di questo ne ho già parlato. Si tratta di un fatto che va contro qualsiasi principio di equità fiscale, ma, e qua arriva, il TAR del Lazio, nella prima ordinanza, non ha voluto riconoscere questo pregiudizio, scaricando di fatto il problema sui giocatori. Bene, quindi, nell'ultimo video, quello che ti ho linkato, io non parlo del TAR del Lazio, perché la sentenza, o perlomeno la circolare, questa circolare direttiva qui, che perlomeno loro la chiamano determinazione direttoriale, ma è esattamente la stessa cosa, è una circolare esecutiva, ok? In pratica, era appena uscita, quindi abbiamo parlato di questo. In conseguenza di questa emissione, Betfair e Betflag hanno fatto ricorso al TAR, al TAR del Lazio, e hanno fatto ricorso dicendo, o merlomeno chiedendo una sospensiva, ok? Quindi una sospensione dell'applicazione di questa tassa per il comparto exchange, proprio perché bisognava chiarire meglio le posizioni, visto che, ma è un dato di fatto, ok? Se ne sono accorti anche alcuni politici facenti parte delle commissioni parlamentari che lo hanno segnalato, ok? Il Betting Exchange non è equiparabile alle scommesse classiche, è tutta un'altra roba, ok? Somigliano a un occhio inattento, ma la dinamica è completamente diversa. Il TAR del Lazio, e qui trovate la sentenza, ve l'ho linkata per questo, che è bella lunga però, faccio il riassunto, salva sport e tassa dello 0,5% su raccolta scommesse, TAR Lazio include betting exchange e respinge ricorsi operatori. Necessario far fronte a crisi economica, settore sportivo. Cioè, potete leggerlo tranquillamente tutto, non mi dilungherò perché è scritto in avvocatese, ok? Anche se in realtà è un'avvocatese comprensibile, ma la sostanza è quella che i giudici del TAR del Lazio, in prima istanza, hanno stabilito che il DL rilancio è nato per sopperire e dare ristoro proprio al settore sportivo, che è il settore che produce gli eventi sportivi, grazie ai quali i bookmaker possono fare le quotazioni. Allora, sull'eticità della legge, per come è nata, e per come, perché, eccetera, eccetera, ne potremmo discutere per ore. E non mi interessa, non l'ho fatto nei video precedenti, non lo farò oggi, scendere nel merito dell'etica, il punto che il ricorso di Betfair e Betflag parlava d'altro, non ha messo probabilmente in discussione l'eticità della tassa, grazie al fatto che appunto veniva scaricata sui giocatori e che è fondamentale dare ristoro al settore sportivo. Ma contestavano il fatto che l'exchange non può essere equiparato a una scommessa tradizionale che viene fatta da un giocatore contro un banco, ok? Invece nell'exchange ci sono giocatori contro giocatori, c'è uno scambio di scommesse, ok? Uno scommette, un altro accetta. E quindi, morale della favola, il Tar, per non sbagliare, ok? Ha deciso di non esprimersi e non prendersi questa responsabilità sostanzialmente, rimandando tutto, e questo è il punto importante, per questo ti sto facendo vedere questa parte qui, dove quindi, per questi motivi che è tutto il papello che abbiamo visto sopra, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, respinge l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la ricorrente è chi propone, per capirci in avvocatese se non lo sai, ovviamente te l'ho spiegato, fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 aprile 2021. Questo significa, in sintesi, il Tar ha detto per adesso pagate, ok? E non ce ne frega una mazza, pagate e andate avanti, poi ne riparliamo il 14 aprile 2021 in udienza, ok? Quindi, in pratica, ci sarà quest'udienza il 14 aprile, non si sa quando uscirà una sentenza, quando si arriverà a capo di questa situazione, in realtà, con l'udienza il 14, considerati i tempi del Tar, probabilmente, poi per fine aprile, metà maggio, insomma, dovrebbe uscire qualche novità, i tempi più o meno sono questi, ok? Quindi, in realtà, i concessionari si sono impegnati nel fare un qualcosa di pratico per difendere le loro realtà che rappresentano legato appunto al betting exchange, che è una forma di libertà anche per gli scommettitori, ok? Mi abbiamo parlato anche in altri video. Si sono mossi, quindi, con un ricorso operativo. Una delle cose che, nelle varie motivazioni c'è scritto, lo troverai se lo andrai a leggere, della sentenza del Tar è anche il ritardo del presentare il ricorso. Ritardo dovuto, e questo penso non sia colpa loro, ma il ritardo è stato dovuto al fatto che il decreto rilancio è di maggio, mentre soltanto l'8 settembre ADM ha emesso la determinazione direttoriale per capire come e in che modo andavano versati questi soldi. Chiaramente, Betfair e Betflag, fino a che non hanno avuto in mano la possibilità di capire in che modo volevano gestire questa cosa, non hanno potuto fare ricorso. Cioè, ricorso di cosa? Ricorso che non c'era una dinamica operativa e concreta sul come si doveva versare questa tassa, ok? però vabbè il Tardellazio ha deciso così. Vediamo l'evoluzione. Chiaramente il 14 aprile è una data importante perché la sospensione che c'è stata per tutti i conti gioco varrà a occhi e croce, non l'ha detto Betfair, lo sto dicendo io ed è una mia ipotesi, quindi prendila per quella che è la mia opinione e basta. Probabilmente durerà almeno fino al 14 aprile, salvo cambi di scenario, cambi di scenario che potrebbero essere accordi privati tra Ministero e o Ministero e l'Agenzia Dugano e Monopoli e le ricorrenti, quindi Betfair e Betflag nella fattispecie, però dubito fortemente visto anche il momento che si sta vivendo a livello politico in Italia con la crisi di governo aperta, con il fatto che Conte tra lunedì e martedì andrà in Camera e Senato a richiedere la fiducia e dovrà verificare se c'è una maggioranza per procedere e andare avanti con il governo, quindi figuriamoci se penseranno al betting exchange nei prossimi mesi, quindi penso che si arriverà direttamente a sentenza con il Tar del Lazio. Bene, questa è la comunicazione di Betfair, Betfair Exchange, la comunicazione di Betfair ai traders, ai roller, ok, la comunicazione è questa, siamo spiacenti di informarti che a seguito dell'introduzione del decreto rilancio, bla 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 bla, che impone un prelevo sulle scommesse sportive pari allo 0,5% dell'importo scommesso ed a seguito di una determinazione di Agenzia Dugano e Monopoli, credo che è questa che non hanno digerito alla fine, secondo me, che indica che il detto prelevo si applichi anche al betting exchange, scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori, giustamente, perché è stato definito esattamente così, abbiamo ritenuto necessario sospendere temporaneamente l'operatività della sezione exchange del nostro portale ad alcuni giocatori che, come te, generano grandi volumi di scommesse abbinate, ok, poi la data che è a partire dal lunedì 18 gennaio 2021 fino a nuova comunicazione, quindi c'è l'impossibilità nell'utilizzare la piattaforma. Invece, per i normali scommettitori ed amatori non cambia nulla perché per i normali e classici scommettitori che operano in exchange o per chi fa poche operazioni non dovrebbero esserci grosse novità. In questo caso, su di loro la tazza non ha nessun impatto. Allora, voglio fare un attimino chiarezza. Non è tecnicamente corretto non ha nessun impatto. Probabilmente il senso di questa frase che si voleva scrivere è quello di dire ha un impatto gestibile, ok? Non ha un impatto drammatico perché è chiaro che se il giocatore movimenta tanto siccome la tassa è sul movimentato va da sé che Betfair siccome apro e chiudo parentesi alla fine per il 2020 non hanno accollato la tassa ai giocatori ma l'hanno pagata di tasca loro nonostante Agenzia Dogana e Monopoli avesse esplicitamente detto che l'avrebbero dovuto applicare sui giocatori se la sono accollata l'hanno pagata loro e sinceramente l'ho trovato un gesto molto bello non tanto per la parte dei soldi ma perché loro stanno portando avanti una battaglia etica quindi far capire che il betting exchange non è le scommesse fatte al centro scommesse sotto casa ma è tutta un'altra roba ed è un'attività e sono soprattutto per chi fa il trading e quindi fa un'attività professionale è un'attività libera a tutti gli effetti che merita una tutela giusta non può essere equiparata a un qualcosa che apparentemente possa sembrare simile quindi il fatto che si siano accollati loro la tassa la dice lunga anche sulla parte morale poi c'è qualcuno che pensa che in realtà l'hanno fatto per insomma farsi vedere perché hanno voluto lanciare un messaggio a me non interessa quale è stato il reale motivo io ci ho letto questo quindi la mia è una condivisione di pensiero di come sto vedendo l'evolversi di questa tristissima perché davvero è di una tristezza questa situazione infinita però tantene dobbiamo prendere atto e soprattutto dobbiamo capire bene quanto dureranno le sospensioni ok dalle fonti dalle loro fonti hanno riscontrato che queste sospensioni riguardano giocatori high stakes o meglio giocatori che muovono volumi molto alti e la sospensione è in atto fino ad aprile quando è in programma l'udienza di merito del tar dell'accio che è esattamente appunto quello che vi ho spiegato io che mi trovano d'accordo su questa cosa in particolare chi fa trading prematch scalping live è stato raggiunto dal provvedimento che non deve essere inteso come punitivo ma solo come una conseguenza di una tassa strutturalmente sbagliata una tassa incompatibile con un certo modo di operare una sospensione che si spera possa durare solo tre mesi in attesa di aprile quando si spera il tar Lazio possa esprimersi nel merito in modo favorevole questo tipo di giocatori infatti contribuiscono ad alzare in modo sproporzionato la raccolta e quindi il gettito della tassa rispetto ai margini cioè ai guadagni pertanto il concessionario registra un livello di prelevo fiscale più alto rispetto alle commissioni pagate su queste singole operazioni in sintesi se incassano 100 dalle commissioni e poi ne pagano 500 di tasse direi che non va bene ok e quindi hanno un attimino tirato i remi in barca ripeto siccome poi c'è da dire che la circolare dell'agenzia Dugano e Monopoli spinge tutto sui giocatori ok in questo modo Betfair non ha tutelato solo se stessa ma ha tutelato proprio i giocatori perché probabilmente se Betfair avesse cominciato a fare la guerra e dire ok facciamo che ve la piangete voi io non vi pago perché sono i giocatori che fanno le scommesse le scommesse non le faccio io non le accetto io io sono soltanto il tutore e diciamo il provider dei servizi colui che eroga i servizi che gli altri utilizzano e quindi poteva tranquillamente scaricare tutto sui giocatori questo si sarebbe poi rivelato come un problema per quelli che movimentano tanto perché probabilmente si sarebbero trovati a casa la F24 da qualche migliarata di euro ok da pagare in questo modo invece Betfair ha proprio tutelato questi giocatori da problematiche future presenti e future con l'erario quindi da questo punto di vista hanno anche rinunciato a dei soldi chiaramente però pur di tutelare loro stessi e soprattutto in questo caso i giocatori credo che la mossa sia sacrosanta ok infatti qui ne parla Betfair ha voluto proteggere i giocatori dai stakes perché ha dovuto quindi cautelarsi per proteggere i giocatori considerando anche che la circolare dei monopoli di stato e le motivazioni del TAR del Lazio sulla prima ordinanza quindi che è quello che dicevo perché scaricano tutto sui giocatori quindi sugli utenti finali dicono in sintesi che ve frega a voi tanto pagano loro ok ebbene non hanno propriamente specificato questa dinamica all'interno della gestione poi si parla chiaramente di conseguenze che apparentemente genererà questo un crodo del gettito della tassa salva sport qui in realtà non sono d'accordo del tutto perché è vero che i giocatori come dice qui che sono stati raggiunti da questa sospensione sono quelli che generano la più alta percentuale di volume ed erano quelli che arricchivano esponenzialmente il gettito ma è anche vero che il comparto exchange fatto sul totale della raccolta è una piccola parte ok immagina di avere 100 come numero totale di raccolta da tutti i bookmaker immagina tutti i bookmaker che conosci fatto 100 il volume di raccolta probabilmente il volume dell'exchange sarà 2 3 10 ok di questo volume probabilmente una metà erano gli high stakes quindi hanno perso più o meno secondo me il 3-4% 5% sul gettito totale a 360 gradi lato stato per questo non farà troppo rumore purtroppo perché se avesse fatto rumore probabilmente l'avrebbe già fatto prima dell'uscita della circolare definitiva betflag al momento non risulta che abbia preso provvedimenti simili anche perché ha un tipo di clientela differente rispetto a betfair chiaramente perché betflag non è utilizzato normalmente da trader o scalpers come li hanno chiamati qui ma piuttosto utilizzata da scommettitori occasionali o da coloro che fanno i bonus quindi da grattabonus o da cacciatori di bonus per lo più bene quindi a questo punto possiamo fare le nostre considerazioni perché abbiamo le idee più chiare va da sé che abbiamo detto che è un provvedimento che va innanzitutto a tutela dei giocatori e su questo mi trovano perfettamente d'accordo non è un qualcosa di drammatico come avevo già intuito infatti ieri sera in diretta l'ho raccontata un po' così non avevo chiaramente informazioni per dare una risposta più strutturata perché è chiaro se devo parlare a bambera preferisco stare zitto però mi sono sentito di tranquillizzare e soprattutto di invitare tutti alla calma e all'approfondire meglio la questione come poi ho fatto e quindi con l'uscita di questo video perché in realtà la situazione non è drammatica ma non è nemmeno delle migliori nel senso che per i prossimi mesi la situazione dovrebbe restare questa salvo cambiamenti ok quindi l'operatività per quanto riguarda Betfair ci sarà per tutti coloro che sono la maggior parte che non hanno ricevuto alcuna comunicazione quindi nella fattispecie per noi che facciamo per lo più i bonus e so che tanti che mi seguono sono cacciatori di bonus quindi per la stragrande maggioranza dico che l'operatività non si ferma assolutamente né subirà grossi cambiamenti tutt'altro perché laddove Betfair si andrà per forza di cose a scaricare di liquidità mi aspetto che si dovrebbe caricare di liquidità un cicinino Betflag quindi noi possiamo utilizzare Betfair se non abbiamo avuto la comunicazione sospensiva oppure andare ad utilizzare Betflag in sostituzione oppure ancora non ci dimentichiamo che abbiamo sempre la strategia di punta punta quindi andare a fare le coperture su un altro bookmaker quindi punto su un book vado a coprire su un altro bookmaker quindi dal punto di vista del bonus davvero non cambia nulla terza soluzione eventuale potrebbe essere quella di chiedere ad un amico parente stretto che magari aiutiamo anche a fare il bonus di fare le coperture al posto nostro quindi più o meno di andare a sostituire l'operatività cioè in pratica lo chiedo dico all'amico senti puoi fare questa bancata di 50 euro su inter juve non lo so detto un match a caso ok e quindi si va a sostituire così l'operatività cioè si tratta semplicemente di adeguarsi a una situazione che non è assolutamente una tragedia ok ne abbiamo viste di molto peggio sicuramente ci saranno aggiornamenti a questo punto io speravo che la questione si fosse chiusa con la circolare di settembre evidentemente non è stato così sicuramente si aspetta quest'udienza del 14 aprile si aspetta un'esposizione chiara del Tar del Lazio mi aspetto che finalmente venga riconosciuto il ruolo dell'exchange in Italia e che soprattutto oscenità del genere possano venire meno noi ci vediamo nei prossimi video iscriviti al canale per non perderti i prossimi aggiornamenti e soprattutto restare informato su tutte le dinamiche legate a Betfair Exchange ma anche a tutti gli argomenti di cui parliamo in questo canale ciao ciao a tutti i prossimi a tutti i prossimi